bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi mamma mia quante novità per quello che riguarda il futuro di fortnite ieri prestissimo alle 8 del mattino lo sappiamo tutti è arrivata la patch 12.30 ha portato una ventata di novità che ci serviva veramente tantissimo un sacco di roba un sacco di curiosità di cui voglio parlarvi proprio nel video di oggi e andiamo proprio ragazzi allora parlando nel video prima però a ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro supporto mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video delle 13.30 nel video di oggi oltre a quello che vi ho anticipato ragazzi parleremo anche di alcune sfide segrete che non sono quelle che vi ho fatto vedere nel video di ieri ed ovviamente una bella sbadilata di leaks e dell'evento di deadpool ma prima la domandina io ve la faccio perché ci tengo tantissimo a leggere i vostri commenti proprio qua sotto domanda di oggi veramente super easy ma cosa ne pensi del nuovo paracadute una delle grandi novità della patch 12.30 questo oggetto per chi non l'avesse ancora provato ci permette di salvarci qualora cadessimo da un'altezza troppo elevata quindi ci distruggono l'elicottero ci distruggono le build o roba del genere lo lanciamo per terra si apre un vero e proprio paracadute come quello in poche parole dei pompieri e possiamo appunto salvarci molto molto interessante anche il discorso di utilizzarlo per scappare se ci stanno pushando l'ho provato ve li continuate a tirare sotto mica zompate via come i conigli ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito ragazzi a vedere la prima cosa importante attenzione perché ve ne avevo già parlato qualche video fa ragazzi attenzione che oggi è il primo aprile potrebbero arrivare degli scherzetti da parte di epic games e da parte dei leakers infatti molti avevano detto xuder è stato scoperto che rimettono il brutto no raga sono stupidaggini sono semplicemente degli scherzi che ci fanno quelli di epic games non c'è stato nessun aggiornamento per quanto riguarda il brutto e non succederà nulla oggi arriveranno probabilmente degli scherzi quindi non pigliatevi a male e non preoccupatevi è solo il primo aprile andiamo avanti ragazzi con il prossimo argomento di oggi sono le nuove sfide che arriveranno per questa settimana come vedete cercare forziere alla spy bases oppure pingare un oggetto non comune raro ed epico o ad esempio consumare degli oggetti sparsi per la mappa visitare la location di sky insomma tante cose vi farò ovviamente i video vi ricordo le sfide della settimana ci danno la bellezza di 400 mila punti esperienza perché sono dieci sfide e ovviamente si comincia a parlare di sky nuovo agente che ancora non abbiamo avuto modo di vedere e soprattutto di scegliere ma andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi ragazzi perché ovviamente come sapete è stato inserito oltre al nuovo paracadute anche l'ombrello molto molto interessante come oggetto perché ha tante funzionalità è proprio un ombrello di rarità leggendaria io l'ho trovato per caso in un forziere quindi lo spawn rate non è proprio così incredibile da avere nel senso non è così raro da trovare e quello che vi sto facendo vedere in realtà sono le nuove legacy che ci daranno quindi i nuovi obiettivi che ci daranno se facciamo delle cose il primo ci dice utilizzare l'ombrello per proteggersi per proteggerti da 2011 danni fare 1968 danni agli avversari con l'ombrello distruggere un elicottero con un missile battery questo è interessante perché potrebbe riguardare il ritorno dei missili guidati ancora non si sa ma è tanta tanta roba voglio poi parlarvele quando abbiamo delle immagini distruggere quattro muri come deadpool e utilizzare il ballo l'emote schianto terrestre sul quando siete deadpool quindi questa cosa già succede in realtà perché c'è un piccolo bug provate a fare l'emote schianto terrestre sullo yacht ad alcuni da gialla legacy una roba carina nel senso una roba interessante ma andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi e ovviamente non potevo che parlare di tutto quello che riguarda il nostro deadpool a partire dalla variante non mascherata quindi deadpool unmask che ovviamente ci verrà data gratuitamente così come ci verrà data gratuitamente sembrerebbe la skin si dico sembrerebbe perché non è ancora confermato che sia un regalo devo dire però che è fantastico tutto quello che sta succedendo in questo capitolo in questa season dedicata a deadpool ci hanno regalato tantissimi oggetti strabelli stanno facendo un sacco di cose e oltre alla skin non mascherata abbiamo che vediamo anche in questo momento in game già voglio prima farvi vedere uno spezzone di video la vediamo anche ragazzi guardate un po guardate un po eccola qua invece sia mascherato che non mascherato davvero molto carina l'hanno pompato peggio di swatzenegger però è veramente tanta tanta roba guardate che storia molto carina sicuramente come skin vale davvero la pena utilizzarla e provarla un'altra curiosità è anche che lo yacht sarà proprio di deadpool ovvero sia sarà un'altra storyline inserita in quella e in quelle che ci sono già in questa season è molto più divertente perché appunto deadpool prenderà possesso dello yacht e anche qua ragazzi ho un spezzone di video veramente divertentissimo mentre voi guardate io ve lo commento è proprio un preview dello yacht di come sarà in game come vedete ignorantissima la palla in alto con la faccia di deadpool ci sono vari spray sullo yacht che vanno un pochettino appunto a renderlo più simpatico i colori bianchi e rossi e se andiamo ad esplorarlo vediamo che ci sono dei quadri e dei richiami continui a deadpool questo è meraviglioso deadpool shakespeare c'è anche la il deadpool che porta a spasso in lama la postazione da gaming come vedete con tanto di green screen e altri disegni fatti dai bambini il piccolo ristorante di tacos alla nostra destra eccolo qua ragazzi in questo momento e tanti altri piccoli particolari che ci lasciano un pochettino richiamare il divertimento e l'ironia che ha deadpool in generale per chi ha visto il film ovviamente non può che dimenticarselo infatti rivediamo molto velocemente non vi avevo fatto notare che la bandiera dello yacht saranno invece proprio i pantaloni di deadpool ma un'altra cosa veramente super interessante che sta per arrivare che non vedo l'ora arrivi sono le doppie pistole anche queste con una copertura di deadpool davvero bellissime dovrebbero fare gli stessi danni delle doppie pistole e sono tanta tanta roba anche perché come avete già notato il background di queste di questa nuova arma è del colore mitico quindi si potrebbe anche ipotizzare che nello yacht noi potremmo trovare deadpool da sconfiggere qualora lo sconfiggessimo riusciremo ad ottenere le doppie pistole che secondo me faranno veramente veramente male e poi ancora dedicato a deadpool abbiamo anche il nostro autobus della battaglia o meglio il pallone aereo statico che trasporta l'autobus dovrebbe poi prendere il colore con il suo logo e abbiamo anche delle novità per quanto riguarda i supply drop quindi le consegne di rifornimenti è l'unica immagine che è stata trovata questa nei file di gioco non esistono più ad alta definizione quindi mi scuso se è sgranata ma come vedete anche queste molto carine ovviamente non possono mancare le sfide dove completando la sfida che ci dice entra in una cabina telefonica e diventa un supereroe e completando anche cerca le doppie pistole di deadpool noi piglieremo appunto la skin finalmente alla alla fine insomma ragazzi tante notizie tante novità tante storyline tanta roba dedicata a questa patch 12.30 e al nostro futuro di fortnite vi terrò aggiornati ovviamente ogni giorno sul nostro sul canale io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel like iscrivetevi ai miei canali io sono in live su twitch ciao 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 ciao